Ieri la formazione del nuovo polo per la Sicilia, l'Assemblea regionale siciliana. FLI si prepara insieme agli alleati alle elezioni regionali quindi? Io credo che le elezioni regionali saranno alla data fissata, cioè alla fine di ottobre e quindi noi abbiamo messo in campo questo nuovo soggetto politico plurale che è il nuovo polo della Sicilia con FLI, MPA, MPS e DAPI. Oggi discuteremo come future libertà in un'assemblea politica molto importante che sarà chiamata a prendere delle decisioni sulla linea politica, a dare delle risposte anche agli altri interlocutori e anche a pronunciarsi sulla ipotesi di una candidatura alla presidenza della regione. Vi voglio dire che non c'è nulla di scontato e che anche le anticipazioni non sono tutte esatte, quelle riportate dalla stampa. La federazione che avete creato ieri di partiti, che appunto raggruppa FLI, MPA, MPS e DAPI, può diventare un partito unico per le elezioni nazionali? Un partito unico a livello nazionale con questa declinazione che io personalmente auspico che venga messa in campo una federazione a livello nazionale di quella che era l'area del terzo polo, che secondo me è ancora un'area politica valida perché esprime bisogni di terzietà che esistono nel quadro politico nazionale di quanti elettori non vogliono schiacciarsi né sul vecchio centrodestra né sul centrosinistra anche questo vecchio. Io credo che in quest'area ci sono due sensibilità, una patriottica, repubblicana, nazionale, laica, liberal-democratica che in qualche modo è rappresentata da Futura e Libertà ma anche dall'API e dall'MPA ed una cattolica che è rappresentata, dei cattolici in politica altrettanto rispettabile che è rappresentata da Casini e dall'UDC. La sfida è riuscire a fare una sintesi politica a livello nazionale di tutta quest'area in cui io personalmente vedo Fini come un uomo simbolo che potrebbe guidare una lista civica nazionale che rappresenti questi valori. Grazie. Grazie a tutti.